Domenica 26 marzo è entrata in vigore l'ora legale. Dormiremo un'ora in meno, ma in compenso avremo giornate più lunghe e più luce naturale da sfruttare. Tutto questo fino al prossimo 29 ottobre, giorno in cui sposteremo le lancette dell'orologio di 60 minuti indietro. L'ora legale nasce per favorire il risparmio energetico in tempi di crisi. L'Italia ha adottato questa soluzione per la prima volta durante la prima guerra mondiale. Le ragioni drammatiche che spinsero a quella decisione sono un lontano ricordo, ma oggi, in tempi di necessario risparmio energetico, l'ora legale potrebbe offrire ossigeno a famiglie commercianti che affrontano i rincari sul costo dell'energia. L'ora legale diventa così una convenzione utile a salvaguardare l'ambiente e le tasche degli italiani. A fare i conti Eterna, società che si occupa della rete di trasmissione nazionale, che calcola un risparmio di circa 220 milioni di euro nei sette mesi in cui sarà in vigore l'ora legale. Il minore consumo di energia elettrica, inoltre, comporterà un beneficio ambientale importante, quantificabile nella riduzione di circa 200 mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica in atmosfera. Secondo lei l'ora legale serve realmente per il risparmio energetico? Sì, io penso di sì. Perché? Perché praticamente la sera ho molto più luce fino a tardi. Io lo lascerei sempre come questa l'ora, non farei il cambio, è già un trauma un po' fare questi cambi. Lo lascerei sempre come è adesso praticamente. Contribuisce il risparmio energetico perché le persone possono lavorare in pieno giorno, continuare le loro attività. Noi abbiamo lavorato ieri in campagna, fino a tardi tardi, è una vega cesma alla badina. È un esempio, no? A livello mondiale tutti cerchiamo di risparmiare e consigliamo vivamente gli stati a prendere atto di questo, in primis l'Italia. Ma ci sono anche dei benefici per la nostra salute? I benefici fisici, mentali e anche di carattere materiale? C'è il risparmio ma non serve a niente, si mette solo in difficoltà con gli orari, con le luci. Poi dopo ci sono altri fattori che possono determinare il risparmio o meno. Per me è da annullare, come le altre parti del mondo. Quindi è contrario all'ora legale per tutto l'anno eventualmente? Sì, è contrario. Invece ci sono dei benefici per la salute? Hai più ore di luce, giornate più lunghe? Sì, quello sì. È più bello con questa ora di estivo. All'estivo, fino alle sette c'è luce, sei più sereno, più felice. È un altro modo di vivere. Con l'ora legale si risparmia realmente? Io non credo. Perché? Perché se quelle che lavorano in fabbrica, se la luce alla sera è un'ora più tardi, si consuma di più, si consuma, né che si risparmia. Dipende se uno va letto prima o dopo, è un'ora alla fine di differenza, quindi sinceramente ti direi di no. E le attività commerciali risparmiano con l'ora legale? Dipende anche da quello che attività hai. Se è un locale, un'attività che utilizza la luce solare, quindi ha bisogno di un'ora in più di luce, allora sì, dipende da tante cose. Lei vorrebbe l'ora legale per tutto l'anno? Per me sì, potrebbe essere anche un'ottima soluzione, senza tanti cambiamenti. Secondo me è una cosa molto positiva. Alla sera, diciamo, l'orario è un pochettino più tardo, mi piace. Per me sì, si risparmia.